Ci sono innumerevoli storie fantastiche in India. Naturalmente diventavano delle guide per la crescita reciproca, perché erano solo dei portali. Poi vedi che il tuo destino inizia ad organizzarsi in quella direzione. Ci sono innumerevoli storie fantastiche in India, su come delle donne sono diventate delle mistiche. Solo essendo dedite al proprio marito. Perché non lo vedevano come un uomo. In India questa è stata una pratica, ora è sparita ovviamente, in cui loro chiamavano il marito Swami. E lui ne era all'altezza. Ci vuole una conferma. Quindi, quando era così, gli ormoni iniziali sono presenti, agiranno e faranno certe cose. Le emozioni sono presenti, agiranno e faranno certe cose. Dopodiché lo guardi come un portale verso ciò che è oltre. E siccome tutti avevano qualche tipo di formazione spirituale, un tempo, naturalmente diventavano delle guide per la crescita reciproca. E in gran parte, in gran parte da questo tipo di accordo, sono migliaia le donne che sono diventate delle mistiche. Gli uomini non lo sono diventati. Perché erano solo dei portali. Coloro che passano attraverso il portale arrivano da qualche parte. Il portale non arriva da nessuna parte. Il portale sta semplicemente lì. La gente va e viene. Non è così? Ci sono così tanti esempi fantastici in India di come delle donne sono diventate delle mistiche solamente grazie a un'emozione unidirezionale. Solo una. Non cambiava, sai? Neanche per un momento. Vedi, per via della natura di questa educazione in cui sei passato, credi di poter focalizzare la tua mente su qualcosa ma non puoi. Non è così? Ci siete? Riesci a mantenere la tua mente focalizzata su di me o tuo marito o tua moglie o i tuoi figli o il tuo Dio o qualunque cosa o persino sui tuoi affari o i soldi. Puoi mantenere la tua mente completamente focalizzata per 24 ore. Ci siete? No. Quindi questa è la natura del tuo intelletto al momento. Quindi se vuoi allenare questo intelletto affinché possa rimanere così per lunghi lunghi periodi di tempo è fantastico ci vorrà molto lavoro ma la tua emozione è in grado di farlo. Ci sono stati momenti nella tua vita in cui sei stato emotivamente molto forte con qualcuno 24 ore solo quello non è così è accaduto o no? Quindi sei più competente emotivamente che competente intellettualmente. Sto cercando di ridirtelo in modo delicato. ci siete? Va bene? Le signore diranno va bene è facile per loro gli uomini sono in difficoltà cosa? che tu sia un uomo o una donna questo è vero per te osservalo e vedi magari il tuo amore non è focalizzato ma la tua rabbia almeno è focalizzata quella è un'emozione. se osservi la temperatura o l'intensità in quanti momenti della tua vita hai conosciuto quel tipo di pensiero che brucia ad intensità scottante ma hai visto emozioni simili non è così? Ci siete? è più facile aumentare l'intensità delle tue emozioni che aumentare l'intensità del tuo intelletto perché richiede tanto lavoro mantenere l'intensità dell'intelletto richiede un'enorme quantità di lavoro il problema sul sentiero spirituale è solo questo sei focalizzato così poi vedi che il tuo destino inizia ad organizzarsi in quella direzione poi diventi diventi così poi diventi così poi diventi così poi inizia a smontarsi ciascuno di voi che è venuto al programma Ingegneria Interiore ne ha fatto l'esperienza ad un certo punto che quando siete venuti al programma improvvisamente sembrava come se la vostra vita fosse su una traiettoria ma poi lentamente ti sei distratto si smonta devi capire quando fissi una traiettoria ci dovresti rimanere se vuoi volare se fai questo 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 comunque andiamo tutti quanti in questa direzione ci siete? no tutti pensano che andiamo così non c'è prova di questo per questo la prova c'è sì o no? hai la prova che stai andando su? no c'è la prova che certamente andrai giù a meno che tu non sia uno di quelli che può permettersi di essere seppellito su Marte no no il pianeta ha bisogno di te anche se non sei utile quando sei vivo quando sei morto il pianeta ti apprezza sì davvero madre terra ti rivuole indietro per favore non negarglielo quando diciamo che la devozione è il cammino la gente pensa che devozione significhi andare al tempio andare in chiesa o alla moschea la gente pensa che devozione significhi religione no 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 devozione significa che stai organizzando le tue emozioni in modo tale che funziona per te assolutamente perché è solo nell'emozione è solo in momenti di emozione che hai toccato la parte più dolce di chi sei non è così ci siete l'hai toccata intellettualmente pochissimi al mondo credimi pochissimi al mondo toccano intellettualmente un punto di dolcezza la maggior parte di voi ha toccato il punto di dolcezza della tua vita solo nell'emozione non è così i momenti più belli della tua vita sono momenti di emozione non è così beh potrebbe non aver durato questo è un altro problema quella potrebbe essere mancanza di gestione non sei in grado di gestire la situazione come vuoi perché le tue emozioni la tua soggettività è asservita all'oggettività del mondo e voglio che tu capisca nessuno in questo mondo gestisce mai il proprio mondo oggettivo in modo assoluto possiamo gestirlo fino ad un certo punto a volte funziona per noi a volte non funziona per noi non è così? ci siete? a volte funziona per noi noi vogliamo che funzioni per noi ma non sempre funziona per noi ma la nostra soggettività dovrebbe funzionare per noi sempre perché è nostra queste persone potrebbero lavorare per te a volte a volte si rivolteranno contro di te a volte ti ignoreranno è così? anche se stai avendo una storia d'amore grandiosa ci siete? anche se stai avendo una storia d'amore grandiosa a volte sono meravigliosi con te a volte ti ignorano a volte ti creano seri problemi sì o no? quindi devozione significa organizzare la tua soggettività in modo tale che la dimensione emotiva di chi sei è sempre per te mai contro di te per questo devi attaccarla lì e lasciarla stare il destino è fissato devo averti raccontato questa storia un vecchio yogi venne alle colline veglianghiri le colline veglianghiri significa ai piedi del veglianghiri dove c'è l'Isha Yoga Center è una rampicata difficile circa 1800 metri ma ripida più di 80 anni di età lentamente voleva rampicarsi sulla collina per salire su perché c'è uno spazio sacro lassù i venditori che stanno lì gli idioti non sono mai saliti sulla montagna stanno lì ai piedi delle colline e fanno affari quindi loro vendono questo e quello qualcosa da mangiare sigarette sai tabacco questo tipo di cose stando lì fumando guardarono questo yogi e dissero ehi vecchio sai quanto è alta questa collina? nemmeno noi ci siamo andati pensi che un vecchietto come te possa salire su questa montagna? lo yogi li guardò e disse sorrise e disse vedete io ho già messo il mio cuore lassù il resto del corpo comunque seguirà non preoccupatevi per me il mio cuore è già lassù comunque ci andrò dov'è il tuo cuore? comunque tu andrai non è così? quindi questo è ciò che significa usare l'emozione per gestire la soggettività che fissi il tuo cuore lì niente cambi in merito è già lì se guardi di qua se guardi di là fai ciò che vuoi semplicemente continua a tirarti nella stessa direzione è www.mesmerism.info Autore dei sorrisi